Pronto nonno, come stai? Hai appena ritirato la pensione, c'è stato un aumento, ma è normale nonno! Adesso c'è il governo dei migliori, che infatti ti migliora la vita, scusa eh! Nonno però, nonostante questo non ti sento molto felice al telefono, eh! Di quant'è questo aumento della pensione? Di 9 euro! Nonno, mi raccomando eh, non te li spendere tutti eh! Lo so che queste cifre possono far girare la testa! Noi co***i nonno, la testa dicevo eh! Mi raccomando nonno, cerca di essere parsimonioso eh! Non si sa mai dovessimo uscire da questo momento economico florido e iniziarne uno un po' più duro eh! Mi raccomando! Come non sai come arrivare a fine mese, scusa eh! Facciamoci i calcoli insieme, eh! Quanto prendi di pensione? 800 euro! Ah nonno, non ci provare eh! Ora sono 809 euro al mese, è tutta un'altra cosa nonno! Eh, quanto hai speso questo mese? Allora, di luce ti è arrivata una bolletta di 400 euro! Nonno, però sono 400 euro bimestrali, quindi 200 euro al mese! Ah, lo scorso anno, lo stesso mese, avevi speso 100 euro! Va bene nonno, ma che vuoi che siano 100 euro in più? Eh, quando uno prende 809 euro di pensione! Grazie al governo dei migliori! Poi, di gas hai speso 400 euro! Sempre bimestrali nonno, quindi 200 euro! Ah, pure qui lo scorso anno avevi speso 100 euro! Vabbè, ma che vuoi che siano 100 più 100? 200 euro di aumento quando uno prende 809 euro di pensione! Poi, questo mese ti si è rotto il cappotto! Vabbè nonno, vattene a comprare uno nuovo no? C'hai avuto l'aumento! Che dici? Con 9 euro il cappotto non l'hai trovato! Eh, però pure te nonno, eh! Beh, dipende che cappotto vuoi! Se ne vuoi uno firmato è normale no? A meno che vai all'outlet! Lì risparmi! Ah, per andare all'outlet devi prendere la macchina! E con gli aumenti sulla benzina che ci sono stati, con 9 euro non ci accendi manco il motore! Vabbè! Allora fa una cosa nonno, il cappotto non te lo comprare, ma ti fa fare un bel cappotto termico dentro a casa! Eh, il governo dei migliori ha fatto il super bolus del 110% sull'edilizia! Allora, è un'altra cosa nonno, che stranamente 4 miliardi e mezzo già sono stati truffati allo Stato! Sì! Strano che in Italia, eh, quando fanno questi incentivi senza troppi controlli, i soliti imprenditori fanno le truffe! Non era mai successo nonno! Allora fa una cosa nonno, il cappotto non te lo comprare, eh! Rimani a casa, tieni il gas spento, ti metti una bella coperta di lana sopra e stai una paola! Non esci più! Esci solo per fare la spesa! Che dici? Ah, pure la spesa aumentata! Ecco, questo stranamente può sembrare strano nonno, ma non lo è! No! Perché le bollette sono aumentate anche per i negozi! Eh, e questi costi i negozi da qualche parte li devono mettere, no? Fai una cosa nonno, mangia leggero, mangia ne meno, eh! Poi ci sono tutte le altre spese, tipo quelle di condominio, quelle straordinarie... Ecco nonno, tu questo devi evitare! Taglia tutto! Ah, oggi non puoi! E perché, scusa? Oggi è San Valentino, vuole portare i fiori a nonna! Scusa nonno che entro nella tua contabilità personale, scusa! Ma questi 9 euro di aumento della pensione, eh, l'hai spesi proprio tutti? Facciamo una cosa nonno, guarda! I soldi per i fiori di nonna oggi li metto io, ci vediamo al solito posto! Certo nonno, ci vediamo davanti al cimitero, ti voglio bene anch'io! Questa volta non c'è nulla da ridere!